Alessandro in questo momento, saluta alla grande, Moise Ken che conoscete molto bene, poi faccio vedere la panchina che in questo momento è occupata dagli altri campioni d'Italia, da Sami Chedira, Andrea Barzali, Gonzalo Higuaín, Paolo Di Bala, che vuole dire due cose. Oggi è giornata di grande Carlo, qua con il nostro giocatore che parla un po' italiano. Pjanic, due parole per la gente, la festa di oggi? Tutto bene, tutto sotto controllo per adesso, siamo molto contenti. Higuaín? Bene, alla grande, meno male che non ho fatto altro calcio. Pippa, Pippa, Barza, due parole oggi? Tutto bene. Che le vuole dire alla gente che è venuta oggi qua? Grazie di essere venuti. Guarda la camera almeno, Barza Giorno. Sami, in spagnolo, due parole per la gente di JTV? Non voglio. Ciao ragazzi. Manca Ken. Ken, che si sente essere da questa parte quest'anno? Non ho capito. Che si sente essere da questa parte, da questo lato quest'anno? È molto importante. È l'ultimo gol che hai fatto? È il passato. È il primo? Sì, è il primo di tanti. Grazie. È la grande, è la grande, è un applauso. Mi devi fare una cortesia, devi riportare Antonio. Aspetta, aspetta, Gonzalo mi dice una cosa. Alexandro devi dire qualcosa. Niente? Forza Juve? Chi si è? Un saluto per Gonzalo. Vabbè. No, Gonzalo, mi spiace, ma non sono riuscito. Alexandro ragione. Ciao.